Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa video trasmittente a 5.8GHz per droni FPV. Si tratta della iCin TX801, se volete acquistarla vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo tutto quello che ci si può aspettare, ovvero la VTX, un'antenna lineare, un set di cavi per i collegamenti ed un manuale di istruzioni. Vediamo ora peso e dimensioni. La larghezza è di 20,5 mm La lunghezza è di 28,6 mm Lo spessore è di 7,9 mm Il peso è di 7 grammi Questa VTX presenta delle caratteristiche molto interessanti. Innanzitutto notiamo che ha a disposizione ben 72 canali suddivisi in 9 bande, comprese le più comuni come la Boscam, la Fatshark e la Raceband. Per quanto riguarda la potenza abbiamo a disposizione ben 8 settaggi differenti, partendo da un minimo di 0.01mW fino a un massimo di 600mW, non mancano comunque i classici 25 e 200mW. La TX801 può essere alimentata direttamente dalla batteria lipo del nostro quad, il range operativo va da 7 a 24V, quindi possiamo usare senza problemi batterie 3, 4 e 5S. Inoltre è disponibile un output da 5V a 550mAh, perfetto per alimentare le nostre camere FPV. Su questo lato notiamo la presenza di un microfono, sentire l'audio dei motori aumenta l'immersione durante il volo, anche se alcuni piloti la ritengono una caratteristica non necessaria. In ogni caso avere un microfono sulla VTX ci da la possibilità di registrare l'audio nei filmati DVR che altrimenti risulterebbero monotoni. In questa VTX non sono presenti Deep Switch, infatti i settaggi vengono fatti tutti con questo tasto e con l'aiuto di un piccolo display. Il connettore per l'antenna è di tipo RP-SMA, questo non è molto comodo in quanto le antenne più usate come le Triumph o le Fatshark hanno il connettore SMA. Si può comunque usare un adattatore SMA-RPSMA e si risolve il problema. Colleghiamo adesso la nostra TX801 ad una batteria lipo. Ricordiamoci di collegare l'antenna altrimenti rischiamo seriamente di danneggiare la videotrasmittente. Come vedete quando viene collegata abbiamo una lettera, un numero lampeggiante ed un numero fisso. Il numero fisso indica il canale, per cambiarlo basta una veloce pressione del tasto fino a raggiungere quello desiderato. La lettera indica quale banda stiamo utilizzando. Per cambiare banda teniamo premuto per circa 2 secondi il tasto fino a quando la lettera non inizia a lampeggiare. Dopo scegliamo le varie bande con una veloce pressione. Una volta trovata la nostra banda preferita possiamo rilasciare. Il numero lampeggiante indica la potenza. Si parte con il numero 1 che corrisponde a 0.01mW fino ad arrivare al numero 8 che è la potenza massima di 600mW. Per cambiare la potenza premiamo per circa 4 secondi il tasto fino a quando il numero non inizia a lampeggiare. Dopo scegliamo la potenza con una rapida pressione. Una volta scelta la potenza possiamo rilasciare. Ora non ci rimane che montarla su miniquad e procedere a un test di volo. Il video è stato registrato con la VTX impostata a 200mW e mi sono spinto in avanti per circa 200m. La camera è un HS1177 e come antenne ho usato una coppia di Triumph. Come potete vedere non è presente praticamente nessun disturbo e grazie al microfono integrato abbiamo l'audio nei nostri filmati DVR. I pro di questa VTX sono un'ampia scelta di canali, la possibilità di regolare la potenza fino a 600mW, la presenza di un microfono e una buona qualità video. Come contro possiamo dire che questa VTX non ha lo smart audio grazie al quale possiamo cambiare i settaggi della videotrasmittente direttamente dal nostro radiocomando. Dobbiamo ammettere però che visto il prezzo estremamente contenuto, circa 15€, non possiamo avere tutto. Questa era la mia recensione della videotrasmittente ICIN TX801, grazie per aver visto il video non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.